I medici di Medicina Generale lanciano la sfida della performance. Voi a vostra volta come cittadinanza attiva Tribuna del Malato rilanciate. Partecipiamo insieme a voi a misurare la performance dal punto di vista del cittadino paziente. È assolutamente una grande innovazione che si inserisce in un contesto che è l'assistenza sanitaria territoriale che è poco misurata oggi. Quindi passare dal pagamento a prestazione al pagamento legato al raggiungimento degli obiettivi salute e alla qualità dell'assistenza è una grande innovazione che ci vede molto favorevoli. È evidente che però questa misurazione e questa certificazione di raggiungimento dell'obiettivo non può essere autoreferenziale. Pensiamo soltanto al monitoraggio dei LEA. Ancora per buona parte delle prestazioni le regioni autocertificano dei dati. Quindi cittadinanza attiva Tribuna del Tribuna del Malato si offre come soggetto che possa spezzare questa autoreferenzialità a partire dal sistema di misurazione dei medici di famiglia contribuendo alla fissazione degli indicatori che andiamo a misurare e anche alla rilevazione. Un altro tema che è congresso dopo congresso, incontro dopo incontro, è sempre sul piatto è quello delle risorse. Il DEF tra l'altro rivede in qualche modo a rialzo le stime sul PIL ma le risorse per la sanità non sono mai abbastanza anche perché eventuali procedure di efficientamento della sanità spesso si scontrano contro una realtà di coperta corta. C'è un fenomeno che stiamo denunciando fortemente. Si dice di fare alcune cose e quindi sostenere l'SSN, finanziarlo e rilanciarlo e poi si fa invece l'esatto opposto. Sono anni che assistiamo a documenti di economia e finanza che prevedono un rapporto spesa sanitaria pubblica-PIL sempre di più decrescente, quindi un approccio depressivo al Servizio Sanitario Nazionale. Quest'anno abbiamo raggiunto il fondo perché mentre sappiamo che l'OMS fissa al 6,5% il valore soglia oltre il quale si sa si intacca l'assistenza e la salute dei cittadini, noi nel DEF, nella nota di aggiornamento, abbiamo portato nel 2020 questo rapporto al 6,3%. Quindi stiamo programmando il Servizio Sanitario Nazionale ad una situazione di estrema difficoltà e questo non ce lo possiamo permettere. In più il combinato disposto con il decreto di giugno del 2017 che taglia anche il finanziamento per il 2017 di 422 milioni, per il 2018 di 604 milioni. Tutto questo rende quasi impossibile garantire tutta una serie di misure che dal nostro punto di vista sono prioritarie. Uno, abbrocare il super ticket, se ne sta parlando ora al governo, è un elemento di iniquità per i cittadini, è un elemento che influisce negativamente sulla salute dei cittadini, è depressivo per il servizio sanitario pubblico e dà vantaggio al servizio privato. Quindi questo super ticket cuba 500 milioni di euro, il fabbisogno per toglierlo, è evidente che se noi non abbiamo una prossima legge di bilancio di investimento e di rilancio per il Servizio Sanitario Nazionale, questa misura sarà difficilmente sostenibile. Ma abbiamo anche i nuovi LEA e sappiamo quanti soldi effettivamente mancano per sostenerli effettivamente in tutte le regioni italiane. Se poi servono risorse per sbloccare la stagione dei contratti di tutto il personale sanitario, sappiamo che c'è un accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata che deve essere sbloccato e deve essere sbloccato velocemente. L'idea di fondo è positiva, bisogna ora metterci le risorse e ovviamente monitorarne gli effetti.